Buonasera, benvenuti a questa edizione del TG5. Montecitorio è il più possente e temuto tra gli squali, anche se difficilmente attacca l'uomo, ma solo ora che ha affascinato studiosi e fotografi di tutto il mondo, sappiamo anche che è un animale eccezionale. Lo testimoniano due studiosi italiani che lo hanno visto cacciare in Sudafrica, Sonoremo Sabatini ed Enrico Gennari, che raccontano le loro esperienze con questo temibilissimo predatore in un libro fotografico presentato al Museo Civico di Zoologia di Roma. E si conclude qui questa edizione del TG5. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.